Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo appuntamento dello Schizzo 03 Channel. Oggi andremo ad effettuare l'unboxing e poi la relativa recensione del set creator 31030, il go-kart. Il set è un set del 2015, il suo valore prezzo di listino è 9,99€, io personalmente l'ho acquistato per 8,50€, è un set composto da 106 pezzi e è la serie creator 3 in 1, infatti possiamo vedere principalmente il go-kart, possiamo vedere una specie di quad e un muletto elevatore, ripeto 106 pezzi per 9,99€ di prezzo di listino. Vediamo la scatola, questa è la mia mano, diciamo più o meno grande come una spanna, qua vediamo il complessivo di quello che si può creare con questo set e niente, effettuiamo l'unboxing. Allora, scatola vuota, all'interno troviamo una bustina, due bustine e i tre manuali di istruzione, uno per ogni tipo di creazione che vogliamo creare, eccoli qua. Ovviamente, personalmente, andremo subito a effettuare il 31030, cioè il go-kart, la parte principale, che a mio avviso, personalmente, è il più bello di tutti. Gli altri due non li andrò a fare e farò solo la recensione del primario, cioè del go-kart. Ciao a tutti ragazzi, mi raccomando, seguite lo schizo03 channel, ciao!